Abbiamo parlato dell'incidente che c'è stato il 6 aprile, mi pare il giorno di Pasquetta, in colata continua 2 di Acciaieria 2, quando c'è stato un boato, una esplosione e un incendio successivo. Arcelor Mittal, ora Acciaieria d'Italia, ha preso provvedimenti nei confronti di alcuni dipendenti, mi pare che c'è stato un licenziamento delle sospensioni, imputando la responsabilità di questo incidente. Nella fattispecie di non aver attivato le emergenze che bisogna seguire con le procedure. Quando invece gli operai hanno seguito le procedure che erano di loro competenza, ma è stato proprio un incidente strutturale, non imputabile ai dipendenti, come rilevato dallo stesso Spesaro. Buonasera Ingegner Don Vito, siamo in diretta telefonica per Polifemo, vorremmo delle delucidazioni sui provvedimenti di sospensione nei confronti di dipendenti a causa dell'incidente. Chiedete, chiedete all'azienda. No, no, lei deve rispondere, perché lei non rappresenta l'azienda, cosa rappresenta lei, un negozio di frutta e verdura o l'azienda? Ingegnere, ingegnere risponda, non si neghi. Ingegnere, ci spieghi, ingegnere, come mai si permette l'assidiera incolata con più 60 gradi, con un margine superiore, con un enti... Ha chiuso? Riproviamo. Vedete cosa fa? Quando le domande sono scomode, chiude il telefono. Riproviamo. Vedete? Ha spento il telefono. Guardate un po'. Alziamo il volume perché bassi, no? Sei. Tre. Non vuole rispondere. Guardate, prende e chiude il telefono. Ingegnere Don Vito, noi volevamo porle queste domande a cui lei dovrebbe rispondere. Come mai si permette l'assidiera incolata con 60 gradi in più rispetto al limite? Ingegnere, quando lei dà disposizioni, lei o per esempio l'ingegnere Ancona, le date solo verbalmente o anche per iscritto? Perché ci risulta che siano date solo verbalmente. Ingegnere, lei non è tarantino, vive a Bari, ma forse non sarebbe preferibile un tarantino a Taranto per gestire l'azienda, certi reparti invece di un dirigente a distanza? Avrebbe voluto farle queste domande, caro ingegnere Don Vito, ma riproveremo.